ciao amici finalmente è arrivato il momento di iniziare a fare qualche modifica sul dji rc attenzione vi ricordo che le modifiche effettuate sui radiocomandi invalidano la omologazione e quindi in realtà non andrebbero fatti esattamente come le modifiche del firmware quindi quelle che portano ad andare ad una potenza maggiore che tutti conosciamo come potenza fcc queste modifiche io le farò in quanto studio e non solo anche come radiamatore ho la possibilità di fare determinati studi sulle antenne perché mi serve appunto per comprendere come sono fatte le antenne del dji rc e per capire come mai alcuni modelli di mini 3 hanno delle problematiche e altri sembra che non ne abbiano per niente infatti il mondo dei social facebook telegram e anche su youtube si divide in due filoni un filone in cui alcuni hanno riscontrato effettivamente dei problemi con la ricezione del dji mini 3 pro e qualcun altro che invece non ha riscontrato alcun problema ma parlo anche di situazioni con forti interferenze avete visto il mio video in cui ho controllato che effettivamente ci fossero tante interferenze in quel paese dove ho fatto il test ma poi effettivamente il drone ha volato tranquillamente senza mai presentare grosse problematiche quindi voglio cercare di capire le differenze fra un Air 2 quindi un OcuSync 2 e un OcuSync 3 di questo drone in particolare vediamo intanto iniziamo a fare qualche piccola modifica e cerchiamo anche di capire la polarizzazione delle antenne seguiranno altri video utilizzeremo quest'antenna per fare le prove di polarizzazione quindi per vedere se il drone trasmette a polarizzazione verticale o orizzontale impostiamo la frequenza a 5,8 gigahertz ecco qui lo sto facendo raffreddare nel frattempo e quindi in questa posizione l'antenna è a polarizzazione orizzontale e questa è a polarizzazione verticale noi confronteremo il segnale che verrà visto dal l'analizzatore di spettro questo è il segnale del del drone in particolare del video quindi l'OcuSync e ora osserviamo che in questa posizione è in polarizzazione orizzontale quindi vediamo come viene ricevuto il segnale è molto vicino perché l'ho attenuato proprio per poter capire quanto le differenze fra orizzontale e verticale eccolo qua e questo invece è in polarizzazione verticale il segnale è più basso ed è evidente insomma si si vede abbastanza bene l'ho evidenziato anche in questa immagine ora sul djr ci faremo una modifica simile a questa in cui è possibile sia utilizzare le antenne originali che anche un'antenna esterna ecco qui in questo caso si vede come il segnale passa attraverso l'antenna esterna e viene esclusa quella originale mentre scorrono le immagini di come ho modificato il djrc per installare i connettori sma cerco di spiegarvi perché lo studio sulla polarizzazione delle antenne del drone può aiutarci a capire come mai alcuni utilizzatori hanno riscontrato problemi di ricezione nell'utilizzo del dj mini 3 pro i droni che abbiamo avuto fino ad ora avevano almeno due antenne sulle zampette queste antenne hanno polarizzazione verticale significa cioè che il segnale radio entra ed esce seguendo delle particolari linee così come vedete in questa figura noterete che in alcuni punti c'è quasi un vuoto e quello è appunto un punto cieco in cui l'antenna ne riceve e nemmeno trasmette in altri punti dove c'è il rosso scuro e invece dove c'è il massimo della ricetrasmissione ora osservate la forma del toroide di un'antenna polarizzazione verticale ed osservate quella invece dell'antenna polarizzazione orizzontale ora prendiamole e mettiamole in un contesto urbano con tanti disturbi provenienti proprio dal basso o dai lati se voliamo in mezzo ai palazzi accade che proprio sulla verticale del drone nel caso del mini 3 c'è il massimo della ricezione se ci fosse un forte disturbo proprio sulla verticale sotto la verticale questo contribuirebbe ad offuscare il segnale del radiocomando ora immaginate di girare il drone finché non si troverà di taglio rispetto al radiocomando cioè con la punta dei bracci verso il radiocomando ed ecco che purtroppo il segnale cadrà vertiginosamente se a questo aggiungiamo che le antenne all'interno del radiocomando non sono proprio ben tarate sulle frequenze su cui operano ma questo vale anche per l'rcn1 mentre e questa cosa vale solo per il djrc le sue antenne hanno polarizzazione verticale cioè opposta a quella del drone ecco che la frittata è fatta potrebbe non succedere mai nulla ma se per una congiunzione tale tutte le problematiche avvengono insieme allora sì che il segnale calerà ed ora vi faccio vedere qualcosa di strano che ho notato ho avuto la possibilità di utilizzare un power meter collegandolo direttamente al trasmettitore quindi non passando attraverso l'antenna solo al trasmettitore il power meter ci permette di guardare la potenza irradiata cioè quella emessa dal trasmettitore l'ho collegato sia l'rcn1 che al djrc e ho voluto verificare effettivamente che una delle due antenne non trasmettesse nulla mentre sulle antenne in trasmissione ecco quello che ho notato dunque il power meter misura la potenza in db in db negativi quindi più si è vicini allo zero tanto più è la potenza di emissione ora ovviamente noterete che sale e scende oscilla su alcuni valori questo perché la trasmissione in frequenzi hopping è piuttosto difficile da tenere da guardare e quindi si vede un oscillazione io qua non ho fatto la media e osservate i numeretti si nota soprattutto sui 2 gigahertz e 4 ecco questi sono i 2 gigahertz e 4 e poi faremo il confronto con quelli delle rcn1 ecco queste sono le misure sull'antenna tx delle rcn1 a 5,8 gigahertz e poi magari chi ha voglia può guardare i valori e confrontarli con quelli del djrc ma io ho confrontato così è apparso subito all'occhio come i valori del rcn1 dell'antenna tx a 2,4 gigahertz sono decisamente inferiori rispetto a quello del djrc tanto che il minimo valore è meno 0,91 db quindi una cosa alquanto strana perché in realtà dovrebbero trasmettere più o meno la stessa potenza e farò ulteriori verifiche a ebbene adesso è veramente tutto queste non erano prove sul campo erano prove in laboratorio quindi verificate con strumentazione adeguata quindi tutte le differenze che notiamo tra le rc n1 fra il dj rc e i due droni sono veramente reali insomma e quindi che altro dirvi non posso fare altro che salutarvi e magari continuate a guardare i miei video se vi interessano ciao a tutti